Bentornati, bentrovati, oggi parliamo di un attore che tutti conoscono, perché chi non conosce Harry Potter sicuramente gli consiglio di leggerlo, perché comunque è una lettura gradevole e vi è una crescita della scrittrice e del lettore che vanno di pari passo. Anche i film non sono male sicuramente ed essenzialmente si perde gran parte di ciò che è il contenuto essenziale dei libri. Quindi oggi di chi parliamo? Se stiamo facendo riferimento a Harry Potter parliamo di Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe è londinese e nasce esattamente come Harry Potter il 23 luglio sul finire di luglio nel 1989. Diciamo che la sua carriera non comincia con Harry Potter e molti non lo sanno perché comincia con un piccolo ruolo. Era ancora un bambino nel medesimo anno in cui esce Harry Potter e la pietra filosofale ed era il sarto di Panama che porta la regia di John Borman. Si dice che per avere questo aggancio ci sia stata l'influenza della madre, tant'è vero che i genitori Daniel Radcliffe avevano recitato entrambi esattamente come lui farà, come lui inizierà da bambini all'interno di pellicole cinematografiche. E sono due persone che fanno parte comunque del contesto artistico perché il padre di Daniel Radcliffe è un agente letterario, mentre la madre è un agente di casting ed è stata coinvolta per diversi film della BBC. Allora quello che dobbiamo dire noi cerchiamo di portare fuori il discorso Harry Potter. Naturalmente Daniel Radcliffe ha avuto la possibilità di essere diciamo così diretto da diversi registi che comunque fanno parte del panorama internazionale che hanno inciso comunque nella storia cinematografica. Penso ad Alfonso Cuaron che ha diretto Il prigioniero di Azkaban e poi è stato anche tra i candidati al premio Oscar. Mi ricordo il film Roma, molto interessante anche se credo che non possa piacere a tutti quel tipo di cinema. Chris Columbus, quello che ha fatto praticamente per intenderci i Goonies è Mammo ha perso l'aereo, quindi diciamo c'è una rinomata importanza. Chris Columbus ha poi lavorato per gran parte del tempo con David Yates, via un po' più giudicabile sotto certi aspetti, ma Daniel Radcliffe ha fatto tanto altro. Allora se essenzialmente nella fase di Harry Potter in cui lui comunque era molto, diciamo così, il troppo denaro forse lo aveva afflitto e aveva generato lui una sorta di crisi che lo aveva portato a fare abuso di alcol e quindi finendo nel tunnel dell'alcolismo, comunque è riuscito a uscirne fuori attraverso il teatro. Perché è proprio vero che la recitazione di Daniel Radcliffe è molto interessante, tra l'altro lui molto spesso appoggia anche i film indipendenti e ha fatto parte di produzioni indipendenti per aiutare il settore, comunque il nome altisonante come quello di Daniel Radcliffe soprattutto dopo la saga di Harry Potter era importante trasportarlo. E io sono convinto che se lo portiamo fuori dal contesto di Harry Potter possiamo vedere come Daniel Radcliffe ha avuto una buona crescita dal punto di vista artistico, tanto è vero che è molto bravo anche all'interno dei musical e c'è stato invece uno spettacolo teatrale nel 2007, quindi in concomitanza ancora con le registrazioni di Harry Potter in cui era possibile vedere il maghetto di Hogwarts completamente nudo e comunque portava anche in scena degli estratti abbastanza passionali, particolarmente passionali. Questo spettacolo era un dramma psicologico di Peter Schaffer Ecus, che prendeva il nome, scusate, di Peter Schaffer Ecus per la regia di Tia Sherrock. Questa rappresentazione ha comunque suscitato scalpore e ha, diciamo così, aiutato anche Daniel Radcliffe a crescere sotto un determinato aspetto, perché il teatro si fa anche così, il dramma psicologico va elaborato, va analizzato in diversi aspetti e non possiamo ridurre semplicemente che il maghetto di Hogwarts era nudo in quelle indeterminate scene. Quindi sono veramente colpito dalla crescita e dalle scelte che ha fatto Daniel Radcliffe dal punto di vista teatrale. Lo troviamo esattamente l'anno dopo con un film horror, tra l'altro se andate su internet e cercate il trailer La Maledizione delle Rede, in realtà troverete delle sequenze dove ci sono le immagini di questo film horror. La Maledizione delle Rede, diciamo così, non sarà un film molto probabilmente. E il film horror di cui parliamo è The Woman in Black. Lo stesso anno lo vediamo in un video musicale del singolo Beginners del due inglese Show Club. E comunque diversi lavori cinematografici, che possiamo vedere sono praticamente uno l'anno. Io ho qui davanti la biografia, perché abbiamo nel 2014 What If, dei lavori a Broadway, intanto nel frattempo per quanto riguardava il teatro. Poi abbiamo il lavoro Now You See Me 2 come antagonista principale. Lui qui sveste i ruoli del cattivo e forse non ci rientra in maniera perfetta, perché diciamo lui fisicamente, ecco parlavamo di Matt Mickelson qualche puntata fa, e lui non ha quei canoni per intenderci da attore. Quindi magari qui possiamo vederlo con distacco. E poi lo vediamo in Jungle, scusate, di Greg McLean. E l'anno successivo è in Beast of Borden, il trafficante, di Jasper Glanstad. I lavori sono diversi e ha lavorato comunque spesso. Fino al 2020, con un film che credo che sia uscito anch'esso nelle piattaforme streaming. Anzi, i teatri in America stanno riaprendo, quindi c'è un sentore. Qui in Italia forse se ne parlerà dopo il 6 di aprile. E questo mi mette una tristezza, ragazzi, incredibile. Il 6 di aprile non è una data certa, eh, facciamo attenzione. Il film del 2020 è, come dicevamo, Escape from Pretoria, che esce nelle sale cinematografiche giusto in tempo. Giusto in tempo esce, perché esce il 6 marzo 2020. Poi la pandemia, diciamo così, ha cambiato un po' le carte in tavola e non ha avuto un grande successo dal punto di vista del botteghino. Quindi una produzione che si è dovuta reinventare poi nel corso del tempo. L'attore, per quanto riguarda l'impiego sociale, ha sempre difeso i diritti degli omosessuali. Chissà che cosa ne pensa J.K. Rowling, mi viene da dire. Ha preso parte a degli annunci di servizio pubblico nel 2009, anche per il cosiddetto progetto Trevoro, promozione della consapevolezza dei gay e prevenzione del suicidio adolescenziale. Quindi molto interessato Daniel Radcliffe alle tematiche sociali. E poi ha anche appoggiato, forse perché il padre è un agente letterario, insieme a Emma Watson, Hermione, Rupert Grint, Ron Weasley, partecipa alla compagna dell'associazione librari americani denominata Raid. Quindi c'è un apporto, anche sotto il punto di vista, lo vedevamo anche in Viggo Mortensen, del sostegno verso le case editrici e i libri che vengono distribuiti in cartaceo. Il cartaceo è sempre più bello, ragazzi, fidatevi apertamente. È stato anche un appassionato di poesia e credo che questo lo abbia influenzato sotto questo aspetto. Ne ha pubblicate diverse con lo pseudonimo di Jacob Gerson, una combinazione praticamente del suo secondo nome e la versione ebraica del nome da nobile di sua madre, Gresham. Perché i genitori, la madre soprattutto di Harry Potter, di Daniel Radcliffe, era ebrea ed era nata in Sudafrica, se non vado errato. Lo possiamo vedere anche come ospite, diciamo così, d'onore nei cartoni animati dei Simpson e anche in Bojack Orseman, in cui presta la voce a un personaggio. Quindi è più o meno questo Daniel Radcliffe. Essenzialmente quello che credo io è che non abbia mai inciso nel ruolo di Harry Potter. Come è potuto incidere invece in determinati film indipendenti o come è inciso a teatro, a Broadway, nei musical? Credo che sia un attore più formato a essere di più di quello che era il semplice prescelto, intendiamola così. Quindi vedo margini di crescita ancora per Daniel Radcliffe. Non so se lo rivedremo a livello internazionale. Ne ho dubbi, ne ho forti dubbi, perché comunque si porta dietro le scorie di un ruolo che lo hanno comunque etichettato, purtroppo. Ma questa è una scelta della società, non è una scelta di Daniel Radcliffe, che secondo me, ripeto, è un attore che va oltre Harry Potter. Può crescere ancora, come dicevamo. Ragazzi, apprezzatele e non date le etichette ai vostri attori. È come dire che Robert Downey Jr. sia soltanto Sherlock Holmes o Iron Man. In realtà, anche dietro di lui c'è molto di più. Così come dietro Harry Potter c'è un attore, una persona, di nome Daniel Radcliffe. Così come dietro di lui c'è un attore.